Benvenuti, buon pomeriggio. Iniziamo puntualissimi perché vogliamo finire altrettanto puntualissimi. Bene, siamo verso la conclusione della sedicesima edizione del Festival Francescano. E quindi è ora di cominciare a tirare un po' le fila. Il tema della nostra edizione era attraverso ferite, e dove il riferimento alle stimmate di San Francesco è fin troppo evidente. Nell'ottavo centenario appunto di questo miracolo, il titolo che è stato dato al nostro incontro è lo straordinario miracolo delle cinque piaghe, le cinque piaghe, le cinque stimmate. Della storia delle stimmate, nei testi e nelle immagini, si è occupato il convegno di apertura del Festival Francescano, giovedì pomeriggio. Il convegno è organizzato, come negli anni precedenti, dal professore Jacques Dallara, in collaborazione con l'Università di Bologna e altri cattedratici. Ora siamo verso il termine, questa sera termina il Festival Francescano, e bisogna che noi, come dire, riprendiamo questo tema caldo delle stimmate. Io ne parlerò assieme a Giuseppe Buffon, che è un frate minore e professore ordinario di storia della Chiesa moderna e contemporanea presso la Pontificia Università Antonianum di Roma, è membro del Comitato Scientifico del Festival Francescano di quest'anno e, oltre che insegnare storia, è anche molto attento al creato, alla creazione, a molte pubblicazioni, molte iniziative che vanno in questa direzione. Allora il nostro sarà, come dire, un dialogo su questa faccenda delle stimmate, che sembra semplicissima, che in realtà forse è un po' più complicato di quello che sembra. Io, così, alla fine, due ricordi, due ricordi per partire. Dieci giorni fa eravamo a Pesaro per una tre giorni sulle origini dei cappuccini, questi fuggitivi, là verso il 1400 e 1500. Allora, la prima conferenza, che dava un po' il quadro, l'orizzonte del convegno, un convegno molto ricco, che ha coinvolto storici delle quattro università, delle Marche. Bene, con un mucchio di relatori, mezz'ora per uno, impegnativo quel convegno, ma molto interessante. E, dicevo, il titolo della prima conferenza, quella che dava il là al convegno, era I cappuccini più famosi che conosciuti. Titolo interessante, più famosi che conosciuti. E il convegno si proponeva, appunto, di fare conoscere un po' di più le origini dei cappuccini. Ecco, a me verrebbe da pensare che anche le stimmate di San Francesco forse sono più famose che conosciute. E, così, lo scopo che ha questa nostra chiacchierata, che faremo, è quella di buttare là qualche suggestione per complicarci un po' la vita, ecco, per, così, i dubbi sono quelli, i dubbi, le ipotesi, sono quelle che fanno andare avanti le scienze di ogni tipo, anche le scienze storiche e anche la spiritualità. Un altro ricordo, per partire, no? Abbiamo fatto, dicevo, questo convegno, giovedì pomeriggio, molto ricco, molto bello. Cioè, sono stati presi in esame tutti i testi, tutti i principali testi, che riguardano le stimmate di San Francesco e sono state proiettate e commentate anche tutte le immagini che riguardano, le tantissime immagini che riguardano San Francesco stigmatizzato. E sono tantissime, perché le stimmate, è stato detto, ma appariva chiaramente da tutte queste immagini, sono la caratteristica identitaria di San Francesco. San Francesco è il primo stigmatizzato nella storia, anche se può darsi che poi lo storico ci dica che forse non è esattamente così. Comunque, San Francesco ha le stimmate bene. Non è esattamente vero, perché ci sono anche delle immagini, le abbiamo viste, in cui San Francesco non ha le stimmate. Ma la cosa che mi ha colpito di più è stato il sentire, il ricordare, in chi analizzava i testi riguardanti le stimmate, che San Francesco, l'imputato, diciamo, il personaggio di cui stiamo parlando, San Francesco non parla mai delle stimmate, delle sue stimmate, non ne parla mai. E invece parla tantissimo dello stigma dei lebrosi. Ne parla tantissimo. Ricordate il testamento. Io ero nei peccati, mi sembrava amaro vedere i lebrosi, poi il Signore mi prese per mano, mi accompagnò dai lebrosi, e da quel momento quello che mi sembrava amaro mi fu cambiato in dolcezza dell'anima e del corpo. E le fonti ci dicono che San Francesco non ha abbracciato il lebroso solo quella volta in modo puntuale, ma si occupava dei lebrosi. Lì serviva dove si spostava, chiedeva dove sono i lebrosi, perché dovevano avere un luogo preciso, tanta era la paura del contagio, eccetera, eccetera. Bene, ma Giuseppe sarà più preciso. Quello che, perché vi accenno a questo convegno, perché l'immagine, fra le tante, ne avranno proiettate 50, 60, l'immagine che ha colpito di più non solo me, ma anche gli altri, è questa. C'è San Francesco con le stimmate e ha la mano stigmatizzata in un piatto dove c'è del cibo. Accanto alla sua mano c'è la mano stigmatizzata, scarnificata di un lebroso. E' un'immagine drammatica che colpisce. Pensate alla paura del contagio, no? Vedere questa mano stigmatizzata lì nel piatto, insieme alla mano stigmatizzata, lineetta, scarnificata di un lebroso, fa impressione. Fa impressione. E allora ti viene da pensare a qualche ipotesi, come dire, che metta insieme un po' il fatto che San Francesco non parli mai delle sue stimmate e parli così spesso delle stimmate dei lebrosi. E allora l'ipotesi che io lancio a Giuseppe e dopo lui la sviluppa, no? O prende posizione contro, eccetera, no? Parleremo di questo. L'ipotesi è un pochino questa, cioè non sarà per caso, tenendo conto anche di un altro fatterellino, cioè la bolla con cui il Papa canonizza San Francesco non parla delle sue stimmate. Oh, ma anche questo è interessante, eh? Ripeto, dopo lo storico ci dà le dritte, però questi sono fatti. Sono fatti. Allora, l'ipotesi che viene è un pochino questa. Io la butto lì così, tanto per buttare un sasso nello stagno, no? Non sarà per caso che, come dire, che i frati siano stati un po' troppo frettolosi nel chiamare miracolo quella faccenda lì, che siano fuggiti un po' troppo presto verso l'alto e abbiano dimenticato la condivisione dello stigma che Francesco ha sempre avuto con gli ultimi, con i lebrosi, con il corpo, con la natura. Tutte realtà che in quel tempo venivano giudicate negative e che lui, invece, abbraccia, abbraccia il lebroso, chiede scusa al corpo, sta morendo e chiede dei dolcetti a una donna. Tutte immagini che fanno un po' pugni con l'immagine standardizzata del santo, tutto spirituale, che pensa solo al paradiso. Ma che santo è questo? sta morendo e chiede dei dolcetti a una donna. Il creato, la natura, veniva considerata negativa sull'onda del platonismo, corpo, spirito, spirito, l'anima è quella che conta, quella buona. Il corpo, invece, è fonte di peccato, di male. San Francesco è un santo speciale, insomma, no? Non corrisponde esattamente ai canoni ufficiali. Non sarà per caso che i primi frati o quelli dei decenni successivi l'abbiano confezionato un po' troppo come santo, dimenticando la sua umanità. non sarà per caso che questo miracolo, lo straordinario miracolo delle cinque piaghe, non sarà il caso di mettere, tra virgolette, miracolo. non sarà il caso che riportiamo, facciamo l'operazione un pochino inversa a quella che ha fatto San Bonaventura, di elevare San Francesco, forse anche troppo, rendendolo inimitabile. Non sarà il caso di riportarlo San Francesco un po' coi piedi per terra, con le sue mani nel piatto in cui mangia anche il lebroso. A te la parola, Giuseppe. Grazie Dino per queste sollecitazioni. Navighiamo un po' dentro a quello che dice Dino, tante ne ha dette. Io butterei lì un sasso, così dicendo, ma le stimate sono un miracolo, sono un anti-miracolo. In genere i miracoli arrivano per guarire delle persone, no? Invece Francesco nell'estimate viene piagato. Ma torneremo su questo più tardi. La cosa che, per tornare alle immagini di Dino, sì è vero, Francesco parla molto dei lebrosi e abbiamo tante immagini anche nell'iconografia di Francesco con i lebrosi, ma io mi sono sempre chiesto come mai tutta l'iconografia di Francesco con i lebrosi presenta a Francesco che serve i lebrosi? Li lava, li nutre, li accudisce, li cura, ma l'iconografia diciamo antica non rappresenta mai Francesco nell'incontro con il lebroso. l'incontro con il lebroso in iconografia che appare soltanto nel corso del XIX secolo. Perché è proprio lì che comincia la questione dell'estimate, perché l'incontro con il lebroso per Francesco significa un ribaltamento di prospettiva. Perché Francesco esce da questa diciamo rincorsa mercantile del profitto, siamo nel primo capitalismo, nel primo emergere un po' della questione economica e va a incontrare invece questi uomini stimmatizzati che abitano fuori diciamo della società civile e quindi accetta questa immarginazione. È come se da subito Francesco si caricasse le stimmate di questi stimmatizzati, li includesse in qualche modo nella dimensione umana dicendo fanno parte dell'umanità, fanno parte della società. perché è da lì che comincia queste piaghe. Da un punto di vista storico non si sa esattamente che cosa sia successo a Francesco con questa stimmatizzazione. Nessuno ce lo dice. Nemmeno lui. Infatti per questo Dino dice che non ne parla mai Francesco se fosse stato mai possibile descrivere questo avvenimento delle stimmate. Dunque Francesco non parla mai di questo. da un punto di vista storico che cosa abbiamo a disposizione? Abbiamo le testimonianze di coloro che hanno visto Francesco con queste piaghe ma anche lì abbiamo descrizioni differenti e quindi non siamo nemmeno sicuri che tutti quanti abbiano visto bene. L'unica cosa di cui siamo sicuri è che tutti quanti identificano queste piaghe di Francesco con i segni della passione. ma per Francesco questi segni della passione che cosa sono nella sua vita? Che cosa sono stati nella sua vita? Ed è proprio dal lebroso che comincia questa interpretazione di Francesco dei segni della passione. La passione che cos'è? La croce che cos'è? Non è il santino che appendiamo al muro. La croce è il fatto che Dio si è coinvolto nella storia al punto da farsi travolgere da questa storia e questa storia l'ha portato fino perché ha accettato in qualche modo di non difendersi di fronte ai poteri e quindi è stata una sorta di protesta silenziosa al potere la croce un Dio che non si difende dai poteri e che li smonta da dentro accettando in silenzio la conseguenza della violenza e del potere questi sono i segni della croce che Francesco si tenta di come si può dire di sui quali si mette sulle sue orme da subito è il primo che incontra come segno di questi poteri e l'emarginazione del lebroso chiaramente ma torniamo alla questione dell'antimiracolo di prima Francesco D'Assisi non è venerato come il santo dei miracoli se andate a D'Assisi a San Francesco e vedete l'iconografia di Giotto nel Basilica Superiore non ne trovate molti di miracoli in questa iconografia Giotto di che cosa parla? Parla della vita di Francesco il miracolo fondamentale per Francesco è il capovolgimento della vita è l'inversione di tendenza dentro la realtà e appunto questo rapporto con il lebroso che sposa questa queste stimmate questa immarginazione del lebroso e quindi è chiaro che dunque queste stimmate non possono essere un miracolo sono dentro a questa vita che viene trasformata di Francesco questa vita che viene capovolta un Francesco che accetta di non aderire ai poteri Francesco che accetta di non difendersi di fronte ai poteri anche quelli che poi dopo emergono all'interno del suo ordine e quindi le stimmate non sono altro che il segno di una follia che è quella del rifiuto di avvalersi del potere perché è una follia vogliamo provarci vogliamo provarci noi nella nostra vita concreta a non avvalerci di nessun tipo di potere di nessun tipo di prerogativa di nessun tipo di vantaggio e allora stimmate ragionavamo all'inizio con Dino quando ci siamo trovati la prima volta a ragionare su questo tipo di sul titolo da dare a questo festival stimmate o stigmata se voi ci pensate bene stimmate è un linguaggio religioso tutti noi quando parliamo di stimmate diciamo va bene sono quelli di San Francesco e tutti quanti i santi che in ogni tempo successivamente fino a Padre Pio hanno ricevuto questi segni della passione ma pensiamo sempre che sono fatti loro sono un rapporto particolare di queste persone con Dio per cui alla fine c'è stata questa sorta di identificazione con coloro che hanno amato cioè con Dio ma sono fatti loro sono una questione intima loro personale noi che cosa centriamo con questo centriamo con questo la storia che cosa centra con questo la realtà politica e sociale che cosa centra con questo le stimmate sono qualcosa che stanno fuori a tutto questo allora forse sarebbe meglio stigmata perché la stigmata invece dice una emarginazione sociale dice un tema sociale è un tema politico e abbiamo visto che Francesco prende posizione dentro la sua società decide di non difendersi decide di non avere possesso di non avere proprietà decide di non avvantaggiarsi nemmeno della sua volontà lasciandosi fare alla fine della sua vita Francesco decide di lasciare il suo ordine che aveva in qualche modo avviato custodito accompagnato lo lascia nelle mani degli altri ma come sarebbe a dire quando viene il cardinale Ugolino e gli dice ma insomma Francesco tu adesso hai tutti questi frati come vogliamo procedere che cosa vuoi fargli fare come vogliamo custodirli basta guardare nella storia abbiamo appalate di regole di San Benedetto di Sant'Agostino di San Basilio perché non prendiamo una di queste regole ben fatte e le aggiustiamo un po' e gliela diamo perché non ci adattiamo un po' a quello che accade agli avvenimenti eccetera eccetera in un capitolo Francesco d'Assisi si alza in piedi e dice il Signore mi ha rivelato che io dovessi essere un nuovo folle a testimoniare che il Vangelo è vero e che quindi è possibile una vita evangelica che Dio mi ha rivelato e che quello che io conosco nel corso della tradizione non può uguagliare nuovo folle allora questi segni della stigmata di Francesco non sono altro che i segni di una follia la follia di un capovolgimento la follia del Vangelo la follia del ribaltamento il discorso del potere mi pare mi pare una pista interessante apparentemente non c'entra niente con le stimmate no ma credo che in realtà c'entri molto cioè facciamo questa ipotesi che il proiettare su San Francesco il miracolo delle stimmate trasferisca come dire tutto il potere in modo verticale viene da Dio e Dio che rende potente grande mette il suo timbro di approvazione a Francesco che ha fatto questa vita no questa vita da santo questa vita evangelica e insistere molto da parte dei frati insistere tanto su queste stimmate e insistere meno sul rapporto di Francesco con gli stigmatizzati del suo tempo vedete che sposta il potere e in ultima analisi sembra andare verso questa ipotesi che poi è quello che dicono è l'operazione che dicono abbia fatto San Bonaventura cioè rendiamo San Francesco il santo dei santi l'alter Christus potentissimo no mettiamolo su un piano molto alto irraggiungibile vedete noi dicono i frati stiamo seguendo questa ipotesi ecco noi ci inchineremo incenseremo San Francesco non abbiamo più bisogno di impegnarci noi con gli stigmatizzati del nostro tempo è sufficiente che facciamo dei tridui delle novene dei santini al santo delle stimmate che sia del tutto sbagliata questa ipotesi che non sia uno dei tanti ritrovati in cui siamo specialisti un po' tutti quando si tratta di rimboccarsi le maniche di mettere le nostre mani accanto a quelle di un lebroso per dire ma l'ha già fatto lui è bravissimo lui lui è il santo sembra quasi questo dispensare noi dal seguire il suo esempio e quindi come dire è un discorso di disimpegno che è la tentazione di tutti cioè primo il nostro discorso non vuole andare nel senso di eliminare il soprannaturale nella vita di Francesco ovviamente cioè senza Dio senza il soprannaturale San Francesco non c'è non regge no diventa carta straccia è evidente che il soprannaturale c'è nella vita di Francesco è l'operazione che è stata fatta dopo che forse ha mistificato un po' l'operazione facendo in modo di disimpegnarci un po' dal rimboccarci le maniche dal seguire materialmente il suo esempio insomma sono fuori strada? Spingi pure oh non si vuole più spegnere allora no no direi proprio che siamo sulla buona strada allora mi viene in mente un'operazione che hanno fatto i frati ed è questa Francesco nei suoi scritti ha una parabola della perfetta Letizia dove si narra che Francesco sta andando la Perugia Santa Maria degli Angeli e Leone continuamente lo interroga e gli dice ma insomma Francesco che cos'è la perfetta Letizia allora comincia a dire va bene se tutti quanti i re si convertissero ed entrassero nell'ordine no se tutti quanti i potenti e i sapienti dell'università entrassero nell'ordine no se i musulmani si convertissero ed entrassero nell'ordine nemmeno e se io facessi tanti miracoli che tutta la gente si convertisse nemmeno e allora dice che cosa è perfetta Letizia e beh è il fatto che io vada arrivi a Santa Maria degli Angeli trovi il portinaio il portinaio mi chieda chi è lei che viene a quest'ora di notte e io gli dicessi frate Francesco e questo mi dice qui non entri siamo nell'ottica del ribaltamento di nuovo l'assenza di potere la non difesa assoluta allora che cosa hanno fatto i frati quando alcuni decenni dopo hanno scritto un altro libro che si chiamano I Fioretti questi li conoscete tutti quanti si è andati in giro non si conosce non si conoscono gli iscritti di San Francisco si conoscono I Fioretti su Francesco D'Assisi questo stesso brano della perfetta Letizia è stato poi dopo riprodotto dai Fioretti qual è la differenza l'unica differenza fra questo brano della perfetta Letizia e il brano dei Fioretti che nel brano dei Fioretti Francesco non rivela il suo nome al portinaio e questo serve a giustificare il portinaio certo arriva uno qualsiasi e mi dice a mezzanotte che vuole entrare e io che come posso farlo entrare non lo conosco non so chi è e dunque questo deresponsabilizza il portinaio cioè il portinaio è giustificato non farlo entrare se arriva uno qualsiasi che io non conosco posso non farlo entrare come posso farlo entrare nella parabola della perfetta Letizia Francesco dice esattamente il suo nome facendo vedere come lì c'è una fraternità in crisi dove c'è un rifiuto di Francesco e dove Francesco accetta questo rifiuto ma certamente ci sono delle responsabilità dentro a questo elemento di rifiuto allora Dino diceva ma i frati hanno visto questa stigmatizzazione e questa è stata un'approvazione certo un Francesco di questo genere secondo voi oggi nella vostra vita uno che accetta di lasciarsi mandare indietro da quello che lo conosce benissimo da uno della sua famiglia da uno se la Chiesa fosse questo oggi senza diritti senza privilegi senza porte senza difese senza potere per questo è una follia per questo quei segni sono i segni di una follia e quando non diventano più i segni di una follia ma soltanto il segno di una devozione capite che questo ci deresponsabilizza tutti quanti pensando ma questo è affare di Francesco con il suo Dio o invece è l'affare di una contestazione del potere aperto dentro a questo panorama di guerre e di rincorsa alla soprafazione invece c'è l'avrete notato nel prato davanti alla facciata della basilica di San Francesco c'è quella statua di un cavallo malconcio poveretto e lì è un ronzino che fa poca strada ecco e c'è sopra un San Francesco ovviamente che è lì che sta per cadere è lì ridotto malissimo è ridotto male il cavallo ridotto peggio lui e io le prime volte vi confesso che passavo di lì e vedevo questa statua dicevo ma è mai possibile che questi frati non capiscano un accidente ma nel posto più importante davanti alla facciata della basilica di San Francesco mettono questo schifo di statua ma è mai possibile San Francesco che è il santo della gioia il santo della natura il santo della contemplazione ma poveraccio ma è mai possibile così perdente disgraziato no ma perché poi e poi pian pianino vedendolo una seconda volta e poi leggendo un po' di libri e pensando un po' ho detto ma guarda bene ma ero proprio imbecille a non capire il senso di quella statua lì perché è proprio lo stadio finale della grandezza di Francesco della vera grandezza di Francesco che accetta che accetta non solo di venire giù dalla verna ma che accetta negli ultimi anni di vita la sconfitta umanamente parlando non ha più nulla non ha più come diceva Giuseppe il suo ordine non è più suo sta andando per le sue strade stanno stanno dicendo che i frati no che il potere è importante perché ti dà degli strumenti per servire meglio per evangelizzare meglio e i libri servono perché ti danno cultura perché ti aiutano a sapere presentare il Vangelo agli uomini d'oggi eccetera eccetera avere addosso dei vestiti da vescovo da cardinale aiuta perché la gente sta più all'occhio sta più attenta ti segue di più aiuta l'evangelizzazione i frati la pensano così e invece ci raccontava Giuseppe quella parabola la pagina più francescana delle fonti francescane quella della vera Letizia Francesco dice no 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 il Vangelo di domenica scorsa cos'era domenica scorsa quando preso dai discorsi dal capitolo nono di Luca che manda i suoi in missione dove la modalità diventa contenuto andate non portate nulla con voi meno avete e più la vostra evangelizzazione sarà efficace perché mostrerete che vi fidate solo di Dio vedete che il miracolo il miracolo forse non va cercato tanto in quei segni no va cercato forse nella vita di una persona che scopre la vera grandezza nel rinunciare ad ogni tipo di potere questo va chiamato miracolo o no proviamo a immaginarci la vita di Francesco quando sarebbero apparse questi segni della prossimità a questo Dio che accetta di farsi inchiodare su una croce perché accetta di entrare nella storia con le mani e con i piedi c'è a Santa Maria degli Angeli un grande dibattito siamo alla fine della vita di Francesco e bisogna scrivere una regola bisogna decidere questi frati come continueranno Francesco aveva avuto questa rivelazione del Vangelo che i frati dovessero vivere in semplicità non avvalendosi di prerogative di privilegi nell'espropriazione e lì viene a galla un dilemma questi frati che sono arrivati ormai a 5.000 che cosa devono fare? diventare una forza a vantaggio della Chiesa chiaramente poi dopo accedendo a rendite e quindi avendo dei privilegi per ottenere un'efficacia di carattere pastorale oppure possono rimanere invece aderenti a quella prima rivelazione di Francesco in cui si dice che questi devono vivere nella piena semplicità senza aderire a tutti questi privilegi e questo è il grande dilemma iniziale Francesco che cosa avrebbe dovuto fare? Certamente ha tentato di insistere su questa rivelazione del Vangelo vi ho detto prima che è saltato in piedi durante un capitolo dicendo ma insomma Dio alla fine mi ha detto che bisogna essere folli che la follia è il segno della croce che la croce è una follia nel vero senso della parola che cosa avrebbe dovuto fare Francesco? Beh le stimate arrivano quando Francesco non prende posizione lascia in mano l'ordine a questi frati e si affida completamente a Dio e quindi queste stimate sono il segno di questa resa definitiva come Dio si è reso definitivamente alla storia degli uomini questi sono i segni in qualche modo di questa sequela di Dio che si è abbassato fino a farsi impotente di fronte ai poteri nella storia ecco e adesso mi piacerebbe che di fronte a così a questa ipotesi no questa questa provocazione che vi abbiamo lanciato voi ci diceste che impressione vi fa ecco questa questa interpretazione delle delle stimate del significato delle stimate c'è questa brava ragazza che ha un microfono in mano ecco c'è una domanda la